Ciao amici, volevo ricordarvi che donare il sangue salva tante viti umane e a tal proposito ecco la grande manifestazione o sangue kit e vip sabato 13 di aprile piazza dei martiri vi aspettiamo in tanti ma davvero in tanti ci sarà un grandissimo spettacolo con tanti personaggi importanti ma dovete venire anche perché mi hanno telefonato tanti vip per esempio mi ha chiamato grillo che mi ha detto è una roba pazzesca ragazzi lo voglio dire a tutti siete circondati dovete venire assolutamente a donare il sangue il 13 di aprile sì ma per far condiccio mi ha chiamato anche bersani e lui ha detto ma sì ma cosa stiamo a smacchiare i canguri tutti a donare il sangue il 13 di aprile e poi mi hanno chiamato tanti personaggi per esempio vincenzo salemme a lui ha detto che verrà mi ha chiamato e mi ha detto ma dovete venire questa è una cosa importante donare il sangue è buono è importante ma fanno pure l'analisi venite e poi alla fine veramente un personaggio fantastico mi ha chiamato papa francesco e mi ha detto buongiorno o buonasera vi ricordo che bisogna donare assolutamente il sangue è la cosa più importante che voi possiate fare un gesto di grande bontà e allora ve lo dico con la mia voce donate il sangue con costanza vi aspetto this is our fate i'm your vi aspetto i'm your